Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. Ehi là, non ti piacerebbe tornare là fuori? Siamo spazzatura, Bubbles, accettiamo la nostra spazzaturezza. Vive avventure straordinarie. Non perdetevi il nostro spettacolo! Piramidi, gira volte, salti mortali! E sogna di essere riciclata. Slim, guarda, è il simbolo della piramide magica! È solo un triangolo. Mi chiamo Spark, potete aiutarmi? Mi sono perso. Voi cercate il posto da cui viene il ragazzo, giusto? Forza, in marcia! Ci sono! Tu ci stai portando alla piramide magica! C'è qualcosa di speciale in questo ragazzo. Lui è diverso. Un risuffiatore! Allarme! Allarme! Il tuo dovere è proteggerlo. Corri, piccolo, corri! È il suo tatuaggio, la piramide magica. La piramide magica è il nostro futuro. Perfetto! Un altro matto fanatico della piramide magica ci mancava. Non è un luogo, è il nostro futuro! Preparati per una fantastica avventura. Come ti chiami? Straniero. Trash! Sei fantastico, Slim. La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro. Dal 16 ottobre al cinema Radio Italia Radio Ufficiale